Salve a tutti ragazzi sono N1001, oggi troviamo su Fortnite Oggi faremo qualche partita in giocatore singolo e una con 50 contro 50 Si è ritornato dal 23 al 28 dicembre Adesso basta chiacchierare, entriamo subito in azione Ok ragazzi siamo qui sul campo di battaglia, sono appena entrato Perfetto, guardateci un FK Va bene, non mi interessa più di quel tizio Adesso siamo qui nel bus Scegliamo un bel posto Ancora siamo troppo vicini C'è una cosa, ci buttiamo qui dai Buttati, perfetto, ci sono riuscito Adesso però dov'era, non me lo ricordo, ok lì Va bene, allora facciamo una cosa Allora, qui ci sono un paio di munizioni, un paio Adesso qui andiamo Controlliamo se c'è altro Uh, un fucile Per favore non andate a schiattini Ok Dove caspita è sto baule? Ah ok, l'ho capito Mi serve, mi servono i materiali Dai, mi serve qualcosa Ah ok, ci ho qui Adesso Belle scale Perfetto Ecco qua il baule Fortunato Eccellente Granata ballerina Non so cos'è Questo non mi serve Adesso lo leviamo Va bene, non c'è nessuno Pazienza Adesso andiamo con questo dusty depot E controlliamo se c'è qualcosa per noi Va bene, qui non c'è nessuno Beh, lì c'è spugli colorati Ecco, lì c'è un tizio Concentrato Concentrato Lancia una granata Lancia C'è riuscito? Non lo so se ci sono riuscito Però è stato bello lanciarla Questo qua è un posto ideale Per fare un'imboscata Però vabbè Non c'è finta di niente Uh, lì c'era una cassa C'era È stato aperto da qualcuno C'è qualcuno però La maledizione Dai, muori Dai, non fare lo scherzoso Ah, finalmente Mi avete fatto fare una scena Scena muta Che dove ero concentrato Eh, qui abbiamo una bella granata Qui abbiamo un fucile Questo cos'è una mitraglietta silenziata Anzi, me lo prende meglio Ok, sento ormai i rumori Meglio andarcene direttamente dal posto Io non so più niente Io ho ammazzato quello che dovevo ammazzare Addio Vado da sti depot Per essere nell'area sicura Vabbè, andiamo Tecniche militari Che nelle colline Si deve essere accovacciati Perché così Non ti osservano Però non c'è nessun cecchino Ma non penso Dai, gli cecchini ancora Prima di trovare fucile Quello bello da cecchino È troppo raro Modalità corsa Correte E ti pareva Ok, la modalità corsa È fallita No, adesso muoio Perché quello sarà Un nerdone Guarda È lì Sta camperando Si vede Guarda Sta avvicinando È sempre più vicino Ecco, lo sapevo Un fucile a pompa Ok Ok La tassi può ammazzare Non è che sia impossibile Ha preso la mira O mi sta prendendo in giro Aspetta È questa la mira Avevo che Ma che mio dico Ma che nerd Ma quanta vita c'avevo Aspetta Fammelo vedere Eh, 19 Sempre solito Sfigato Vabbè, niente ragazzi Adesso Vediamo Facciamo la partita 50 contro 50 Anziché non ci nerdo Nerdo di più Sul rainbow No, niente Non ci fa niente Perfetto Va bene Dopo aver fatto Questa stupidaggine Siamo 49 contro 48 E che non serviva niente Sapere queste cifre iniziali Dopotutto moriremo tutti In due secondi Vabbè, ci buttiamo subito Adesso No, no, no Per favore Niente paracadute Chissà tra questi I nostri alleati Penso nessuno Se è nessuno Oddio Impazzisco Perché moriamo subito qua Ok, quello è un alleato Perfetto Qui c'è un Benda Qui c'è un fucile d'assalto Abbiamo trovato tutto Adesso spostati Che devo Prendere qua Un paio di materiali Adesso Qui Sperando che non becco Il settore della cassa Non mi dire che ho beccato Proprio la cassa Va bene L'abbiamo persa Non l'abbiamo mai più E niente Pazienza Che ci posso fare Adesso andiamo qui Adesso Scendi Brutta Obesa Oddio Più snella del mondo Però va bene Niente Va bene Continuiamo Continuiamo Seguiamo quei due Che sono in alto a destra Rispetto alla mappa Vediamo un attimo Una controllatina Col fucile Ok, non c'è nessuno Eccellente Qui Non c'è Nessuno E lo dico Dalla collina Quindi sì È vero Notizia confermata Capitano ovvio Ok, perfetto Siamo scelsi Dalla collinetta Ok, questi qua Sono Premium I premium Sono di solito Quelli forti Vabbè Io li seguo Salve Perfetto Guardate Con fucile La pompa Che ne vanno fieri Io li seguo Proprio a pieno Ok, va bene Adesso andiamo Per di qua Seguiamo i nostri Alleati Oh, il nostro amico Viola Gabri Si è avvicinato a noi Meglio così Adesso andiamo qui Nella città E controlliamo Se c'è qualche risorsa Per noi Questa casa Gliela lasciamo Ai nostri alleati Anche loro devono Luttare La casa È normale Oh, qui c'è qualcosa Di interessante No, ci sono solamente Fucili Grazie mille Per aver preso Le munizioni Perfetto Vabbè Ci pensa lui Fosse lui Un vero Pro player Non lo so Io lo sto seguendo Mi potrebbe accusare Per stalking Però vabbè Niente Adesso quindi Andiamo qui Ci nascondiamo Questo C'è spuglio Nessuno mi vede Secondo voi Una sciocchezza Non serve Nasconderci in questo caso Noi siamo più forti Facciamo quello che vogliamo Noi 26 contro 20 Noi Dettiamo leggi In quest'area Va bene Facciamo una cosa È venuta un'idea Sfondiamo delle casse Iniziamo a prendere legna Perché ci servirà Oh, che cos'è questo? Pozione scudo piccola Perfetto Scambiamocela un attimo Bevi un attimo E non veloce Ok Granata Ok, ho 25 di scudo Eccellente Proviamoci qui Cos'è Cos'è questo? Una Mitraglietta tattica Non mi serve Anzi Però Ripensandoci bene Mi serve meglio Dere la mitraglietta Silenziata Comune Ecco qua Adesso è più forte Abbiamo conquistato Completamente La città La città Della nostra parte Abbiamo ormai Deciso Qui ormai Di nostro dominio Oh, eccellente Hanno lasciato una pozione scudo Meno male Grazie mille A quello che l'hanno lasciato No, no, no La granata No, ti prego Però guardate Quante pozioni C'ho E di quella pozione Non ti serve? No? Non ti serve? Prendono Lo vuoi? Allora Ci prendiamo la granata Però Ok Abbiamo gli oggetti volanti Adesso Che va bene E sembra Che non ci sia nessuno Guardate che Che booker Che stanno facendo Però Credo che mi stanno iniziando a sparare Ok ragazzi Qui Uno scontro ravvicinato Uno scontro fighissimo Oh mio Dio Stanno sparando fortissimo La battaglia fighissima Non andare a scatti Allora Ok ragazzi Stiamo iniziando a coprire Perfetto Meglio così Io sto proteggendo un lato Perfetto Oh mio Dio Oh mio Dio Oh caspita Oh e ti rianimo No Sta per cedere Il pavimento sta per cedere Ti salvo Se non mi sbaglio la persona di prima Però va bene Dai che ti sto salvando Ah Perché 10 secondi Sono così lunghi Ok Aspettate Devo salvare anche Rolly Rolly Dove sei Rolly? Oh mio Dio Ma quanto caspita Sei andato avanti Sei un pazzo Ma è un pazzo Letteralmente Come faccio a raggiungersi Vabbè Mi dovrei suicidare per te No 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 Che è questo? Se vabbè No no Non è vero niente Perfetto ragazzi Ci hanno sfondato letteralmente Non me ne ero accorto ragazzi Comunque Abbiamo fallito È stata una battaglia Una battaglia fighissima E abbiamo perso Almeno con onore Quindi vabbè ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate Un mi piace Iscrivetevi Attivando la campanella E ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao Ciao